buongiorno altro video di carnetto live non faustino fede con il loro buongiorno speciale e in più fede annuncia che fra poco sono in partenza per andare a festeggiare pasqua e pasquetta fuori bastia come abbiamo detto ieri a voi firmato ma un amico bello è come il mio cuore vero sei il buongiorno ma di buongiorno ma è buongiorno te l'ho detto prima e ridillo un'altra volta buongiorno ma un po meglio buongiorno ma un po meglio buongiorno ma meglio 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 adesso si che può inizia la giornata è iniziata già da parecchio oggi saremo in viaggio vero sei carico che devo fare è mai da levare quella luce luce ma perché no perché te lo levare devi pigia fronter pigia fronter allora se tu lo apri pigia fronter si leva è la pigia fronter da retta apelo pigia pia fronter giro da destra e poi lo giro a sinistra e poi va avanti guarda allora tu vai pigia 1 1 2 2 3 3 cazzo in culo a chi sta a sedere o comunque i miei fronini ho ancora così giovani ma io ho Smith F과�j00 piazz were p precis pezz 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 c 봐 mkommen